Bentornati, fratelli di tuberanza, in una nuova sfida Draft nell'Iro Colosseum, ovviamente contro Joseph the Gamer. Ciao a tutti ragazzuoli! Raga, oggi è un pochettino frizzantino. Prima di cominciare, pollicioni all'insù per supportare questi video, e nei prossimi proveremo a far sfidare Draft Joseph contro Blazzi. E noi saremo soltanto spettatori. Giuseppe, mi raccomando, ti voglio carico bro. Allora, vai sulle capsule speciali e preparati. Solite regole caro Joseph, due capsule e da quelle miniature che escono dovremo tirarne fuori un deck. Ok? Sei pronto? Vado io? Vado, ciao. Ah, tu sei partito? Sì, sì, io vado via, ormai me ne vado. Ok, va bene, va bene, va bene, bravo. Allora, io inizio con un Jiren SR, abbastanza vergognoso. Black Hawk Super Saiyan Rose, prima UR, attenzione. Ah, me l'annunci così, ovviamente. No, con calma. Ah, no, con calma, certo, certo. Non c'è problema, non ti preoccupare. Io vado avanti ad SR, non ti preoccupare bro, non devi neanche temere la cosa. SR, insomma, cercherò di fare un team un po' esotico. Ecco, come si vuol dire? Dei poveri. 3, meno 2, fa 1. Let's go, let's go. Oggi proprio c'è di esprimare persi, non c'è più. Sì, sì, oggi ci esprimiamo così, sì, sì, sì. Un bardak, va bene, ok. Un altro... Che c'è? Non lo vedi tu dalla tua schermata? Eh, no, l'ho coperta per riservarmi la sorpresa, perché non voglio rovinarmi. Vabbè bro, ma che cazzo digli, scusami? Eh bro, lo vedranno le persone. Vabbè, facciamo così, non ti dico niente, zero. Eh? Non ti dico niente, le persone l'hanno visto, i fan a casa. Eh? Direttamente, in battaglia, vedrai cosa ho trovato, non ti dico niente. Vabbè, dimmelo, se devo già darti l'episodio vinto, dimmelo. Cioè, mi risparmi i minuti di registrazione. No, no, però, voglio vedere la tua reazione ad inizio partita, non te lo dico. Vabbè. Mi dispiace. Vabbè. Quindi anche loro dovranno vedere la tua reazione ad inizio partita. Va bene, andiamo a creare il deck e vediamo poi che cosa esce fuori. Le miniature e i deck sono pronti. Mettiamo pronto, caro Joseph the Gamer, e vediamo, visto tutto quell'entusiasmo che avevi, che cosa avrai mai trovato di così esagerato? Mo' come minimo mi aspetto almeno 4 o 5 UR in un deck. Io piglio, spegno la Playstation e quito, bro, per te lo dico subito. Non sono tutte UR, ma sono quelli che ho trovato, però, sono un po' particolari. Quello sì. Sono particolari. Ok, vediamo. Allora, questo è il mio modestissimo deck, bro. Ci sono due gire nell'Android 21. Non parla zittito subito. Bro, che è? Non capisco. No, bro, hai palesemente barato, non è possibile. No. URQ. No, bro, allora è tutto a schermo. È tutto a schermo. È tutto a schermo? Ho barato che cosa? No, bro, è impossibile, bro. Cioè, è inutile. Non è possibile. Questa partita non ha senso. Questa partita non ha senso, bro. Eppure, eccoci qua a giocarla. Io, bro, ci vado subito di cattiveria. Eh, beh, ci manca... Beh, certo. Beh, certo. Che fai? Non giocavi di cattiveria? Che fai... Giustamente. Dico, ho piacciato tutti con le mani in piedi qua. Non si dice in italiano mani in piedi, ma con le mani alzate. Guardali. Vediamo. Ma guarda quanto tempo si piglia. Eh, no, bro. Cioè, sto cercando di... Sto cercando di capire qual è la soluzione migliore da attuare. Eh, perfetto. Perfetto. No, potevi schierarne un'altra, se volevi, eh. Nel senso... No, avrei voluto, ma non me lo faceva far. Certo, immagino. Più 300... Giustamente, gli diamo più difesa. A lui gli diamo più attacco, perché sai, magari ce n'ha poco. Certo. Certo, certo, certo. Ok. Io temo un po' per il Goku 3 stinto che mi pare abbia una difesa. Eh no. Ma com'è sto patto? Per me il mio pro... Oddio, 8.010, 8.060. Oddio. Ma il cazzarola! Ma non è possibile. Se vuoi! Non è proprio possibile. No, 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 no. Fra, io me ne vado, io me ho guido. Ma tu vai, bro, che se perdi... Bro, bro, allora, innanzitutto questo c'ha 7.000 di vita. Non te lo butto giù probabilmente neanche in tre turni. E infatti... Buono. Vabbò, fatti questo attacco al bonus. Così mi rompi un po' il guanto. È bravo, esatto. Giusto il pantalone. Dai, mi sguacisci la mutandina. Quella vacca, bro. Il come... Ah, uno per due è il suo attacco. Buono. Io abbassa un po' il volume del qua, del coso. No, aspetta, che hai in attesa dell'input? Che, che? No, 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 si è tolto. Ok. Eh, vabbè, ragazzi, ma... Vabbè, ragazzi, ma che attacchi fanno i miei? Bro! Ma senza voglia, devi dire... Bro, ma sono ridicoli. Però ti stanno a fare tutti gli attacchi bonus. Eh, ma me li sbatto, bro. Ma che è 696? Non ti lamentare. Jiren, ti prego, eh. Jiren, per favore. No, mo, non avevo fatto caso. Eh, vai, Jiren! Vai! Piccolo plot twist di Jiren che uccide con ultraistinto. Sarebbe dovuto andare così, ma vabbè. What if direttamente qua in live? Esatto. Minchia. 3.004 fa quello. Cioè, quello se mi becca una miniatura me la... Spaccalo. Sì, vabbò. No, bonus. Attacco a bonus. Godo, godo. Godissimo, godissimo. Va bene. No, questo è matto proprio. Va bene così. Matto totalmente. Madonna, ma dove si presenta quello... Totalmente matto. Questo che cosa faceva? Ah, dai, so che... Questo è un pagliaccio. Eh, io ho capito pure io quello che vuoi fare. Mo metti il rosè centrale, giustamente. No, 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 no. Ah, no? Ok. Ho detto niente, però. Ok, ok. Ah, chi lo sa? Non lo so, bro. Cioè, io ho fatto... Ho provato un po' un cambio. Un change... Eh... Eh... Eh, ho fatto pure il change. Me l'hai consigliato, non volendo. Il rosè centrale è una buona idea. Più 650 al suo attacco. Vorrei capire per quale motivo continua a potenziarsi ogni turno. Probabilmente l'abilità dice che si potenzia di 150 ogni volta. Quindi o lo butto giù il prima possibile, oppure questo arriva a un punto che mi apre. Ma non è sempre più alta quella vita. Inciapoz fa... No! Ma... Ma è imbazzito! Che è? Bro, io allora ho cliccato sul 2,90 e mi ha selezionato quello dopo che era 2,20. Eh, bro, perché sei stato lento. Ah, ma anche 2,90... Bro, anche 2,90 non ti bastava? Sto vedendo con la schermata dell'elgato, che è più lenta di quel millesimo di secondo. Eh, ma non ti bastava lo stesso, bro. Quindi, se ti può rassicurare in parte questa cosa, non ti bastava. Jiren! Jiren, bro! Bro! Comporto di pe... Bravo, Jiren! Sì! Ragazzi! Bravo! Ragazzi! Adesso, androide! Bro! Quitto, bro! Quitto, direttamente! Scusa, devo perdere quitto! Raga, allora, androide! Esisti! Ce la puoi fare, androide! Esisti, ce la fai! Androide! No! Androide! Che cazzo fai? Oddio! Spaccala! No, raga, 19! No, 19! Vai, spaccala! No, raga, no! No, raga, no! Raga, 19 di vita, no! No, raga! No, bro! No, 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 no! Mo' perdo pure Jiren! Direttamente dal futuro! Spaccala! Fermo, fermo! Ah, vabbè, raga, dai, però, che culo! Madonna mia, raga! Ma, allora, questo... Fortunato nel capsule! Fortunato pure nel gio... Dai, raga, non si può giocare! Dai, dai, dai! Non si può giocare con questo! Ma, ma, sì, ma che ci vuoi fare? Non si può giocare, bro! Con te non si può giocare, bro! Eh, dai, non dì che cosi, ma scusa! No, io, io, ragazzi, veramente, non... Si può giocare con questo tizio! Si può giocare! Allora, fammi capire un attimo una situazione! Con te non si può giocare, bro! Bro, se tutto va bene, se tutto va bene, sto turno ti apro come una cozza, però, deve andare tutto bene, e sappiamo che sono famoso perché le cose non vanno mai come voglio, però, va bene, ci proviamo! Io sono un po' preoccupato, se sei sincero, perché qua, secondo me... Eh, che ha fatto? Non mi va a segno quello che vorrei fare! Eh, meglio, godrei! Godrei più che altro! Provo a fare una cavolata così, penso mi sono fatto un errore, però voglio capire un attimo una cosa, perché secondo me attacchi tu per primo... Eh, bro, se ti attacco per primo ti apro, perché ti attacca Jiren con l'attacco supremo ti apro! Sicuro mi attacchi per primo, ma ti faccio vedere! Eh, speriamo, bro, spero forte! Guarda come ha protetto quel Jiren UR là dietro! Eh, bro, lo dovevo proteggere! Madonna mia! Ti prego! 2,90! Quanto basta? Quanto basta? Noi! Contro la sfortuna! Vamos Jiren! Io sono totalmente... Vabbè! Che cosa, bro? Ragazzi, è stato un piacere essere in questo video, grazie a tutti per aver... No, 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 bro, no, fino alla fine devi rimanere, bro! Occhio! Attacco bonus, guarda, bro! Lo fallisco! Lo fallisco di proposito, bro! Lo fallisco! Perché voglio vedere tutto... Sì, bro, lo faccio apposta! Guarda, guarda, guarda questo, guarda questo! Ma questo è matto! Ho preso! Boom! Attacco bonus! Bro! Lo fallisco! Ma... Ma che stia fa? Sì, bro, ti sto trollando! Ti sto prendendo in giro! Perché ora ci pensa Jiren? Bro, goditela! Bo, 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 bo! Guarda qua le zampate, i cazzotti! Vai! No, eh! Mamma mia! Cioè, ragazzi... Jiren! No, ragazzi, allora, io personalmente ero entusiasta e pensavo... Bro, prima di iniziare, di avere già la partita... Bro, ascoltamme! Me la sono portata a casa con queste guerre! Totalmente un uomo devastato, distrutto, io adesso spengo la PSG! Hai fatto una figura di merda! No, 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 io disattivo tutto, spengo tutto, ecco qua! Chiudo e non voglio sapere più niente! Ciao, bro! Ciao, 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 ciao! Eh, bro, effettivamente sì, fai bene! Fai bene! Ciao, tolto le cucchie, ciao! Vabbè, vabbè! Me ne vado! Ragazzi, episodio draft terminato! Joseph sperava che con le tre VR, tra l'altro fortissime, riuscisse a battermi, ma purtroppo, come vedete, il risultato è quello lì! Ovvero Joseph che si alza, se ne va, quittando! Signori, noi ci vediamo con i prossimi draft, sempre solo qui, ovviamente, con Joseph, Blazi e chiunque sia! Ciao! Ciao!